Senti, ma... Quando torniamo dalle vacanze, che cosa succederà? Staremo insieme. Ma, sei sicuro? Non è che poi, che ne so, finiremo anche col dimenticarci anche i nostri nomi, come fanno tutti d'altronde. Ma che? Noi dureremo. Saremo l'eccezione. Saremo l'eccezione. Madonna, ma come si chiamava? Chiara. Giuseppe. Carmela? Aspè, 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 ho un'idea. Tesoro! Come stai? Bene, bene, e tu? Anch'io bene. Ancora meglio adesso che sto con te. Sì, dai, anche a me fa molto piacere stare qui con te. Sì, sì. Ma come mi è venuto in mente di accettare? Mi pare che iniziava con la F. Dici qualcosa? Rompi il ghiaccio. Devo trovare un modo per ricordarmi il suo nome. Senti, ma hai dato il nome all'ingresso? Per il fatto del co... Ah, sì, 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 certo. E che nome hai dato, scusa? No, perché pure io dopo lo devo dare, no? Allora, per prendere un spunto... Ah? Ecco. Filomena, Filomena, Federico... Voglio smammare. Ora provo con qualche messaggio subpriminale. 31, 32, 33. Ma che fai? Conto! Speriamo che hai capito. Secondo me questo non sta buono cagò. Ma... 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 Ma Arisa! Dimmi. No, eh... Mi chiamo Alessia. Alessia. Ah... Senti... Ah... Arisa. Non mi ricordo minimamente come ci siamo trovati insieme al falò. Forse avremmo fatto, sai, quei classici discorsi di mezza estate sull'essere, l'apparire... Dilemmi esistenzi... Eravamo ubriachi. Ubriachissimi. Forse non ci siamo detti proprio nulla. Senti, io voglio esserti onesta, eh. Cioè, proprio... Ti voglio dire proprio la verità col cuore. Io non voglio nulla da te. Cioè, per me è iniziata e finita lì. Bruciata nel falò proprio, eh. Addio. Anche per me, anche per me. Grazie per averlo detto, perché... Mi hai proprio tolto un peso dallo stomaco. Ma pure perché... Ma chi si danza mai con quello del falò? Io no. Ma tu magari in sì, potevi esserti innamorata. No. No, non fa così. No, no, no. Perché poi... Guarda che... Io me la ricordo la performance quella sera. È stata pazzesca, eh. È stato proprio un intrigo di... di corpi, di emozioni, di passione, di carnalità, di evoluzione. Va bene, va bene, dai. È stato un piacere, eh. Ma che fai tu questa mana? Mi fa un po' senso il contatto fisico. E allora, dai, sarà per la prossima vita. Ciao. Alessia. Ciao. Caro. Ma che ci siamo detti? La seghera. Va. La seghera. Grazie a tutti.